allora questo sembra il grafico di uno dei titoli alla game stop quelli del che nel 2021 partivano con andamento parabolico si moltiplicavano per 2 3 5 10 nel giro di poche settimane ricorderete e invece no questo che stiamo vedendo è il grafico del rendimento del bund tedesco quindi un titolo di stato decennale che ha dormito per anni con una volatilità bassissima dormito tra virgolette ha avuto ovviamente le sue oscillazioni ma a questi livelli non ci arrivava non so da quanto è ieri il titolavo appunto bund fuori giri e bund quindi è il titolo che è sottostante a questo rendimento cosa vuol dire fuori giri quindi oggi vediamo un grafico leggermente diverso a posto della volatilità stop line guardiamo le bande di bollinger bande di bollinger sono centrate su una media a 20 periodi e queste sono settate a tre deviazioni standard dalla media cosa vuol dire vuol dire che se i prezzi vanno fuori al di fuori di queste bande è un evento che occorre in un caso su 100 quindi il 99 per cento delle volte i prezzi sono statisticamente all'interno delle bande poste a tre deviazioni standard traduciamo questo è un evento rarissimo lo era già ieri perché già ieri avevamo bucato la banda superiore infatti anche lì normalmente quando accadono queste cose guardate è accaduta la stessa cosa a febbraio 2022 questa volatilità ovviamente iniziata con il movimento al rialzo dei tassi ha iniziato con un certo passo è un indicatore ovviamente di eccesso il fatto che il prezzo vada fuori al di fuori di queste bande quindi un indicatore di eccesso che poi quasi sempre nel giro di breve manifesta un movimento correttivo non è detto che vada sempre indietro però i prezzi tendono poi a rientrare all'interno dell'inviluppo delle bande no all'interno di questo canale e quindi già ieri infatti titolavo però con il punto interrogativo se per caso non si fosse vicini a una a uno stop di questo movimento verticale parabolico che da giorni sta battendo sulla banda superiore ieri addirittura ha aumentato il passo questo il classico andamento di climax o lo vedremo ora sul bund di panic selling però allo stesso tempo ieri vi dicevo attenzione perché in questi momenti non sai l'ultima gamba quella che dovrebbe essere l'ultima gamba del movimento quando inizia la fase di eccesso la fase appunto di climax non si sa quanto si possa estendere passiamo al bund che guardavamo ieri oggi il bund ha fatto un'altra cosa eccezionale cioè dopo la giornata di ieri quindi il bund chiaramente grafico opposto la giornata di ieri va fuori dalla bollinger oggi tenta il rimbalzo poi nel pomeriggio sull'onda della notizia che la fed ha fatto trapelare alla stampa che probabilmente domani alzerà il tassi 0 75 un evento che non accadeva da non so quanti anni se lo farà domani i rendimenti hanno avuto un ulteriore impennata a cominciare da quegli americani ma quelli europei sono adeguati subito dopo e i bond hanno preso un altro tonfo hanno fatto un altro tonfo a partire dal pomeriggio diciamo che oggi questa era una candela che fino alle ore 16 possiamo vedere il grafico a un'ora ecco la candela dove sono ora questa è la candela delle 16 quindi fino alle 15 quindi questa è la candela che è finita alle 16 fino oggi pomeriggio sembrava avviato una chiusura aveva tentato il rimbalzo oggi no e poi si sta stava chiudendo andando a ritestare ma senza molta convinzione il minimo di ieri invece poi è trapelata questa notizia e c'è stata un ulteriore accelerazione verso il basso quindi questa fase speculativa questa fase di panic selling continua anche oggi sono aumentati i volumi e quindi attenzione in ogni caso questi sono i casi dove pericoloso andare short è pericoloso andare long perché chi è andato long ieri oggi si è ritrovato addirittura una perdita di tre punti sul bund che normalmente nei tempi normali quando scilla di uno è già tanto ok quindi questo è il momento che stiamo in questo momento attraversando domani ci sarà riunione della fed molto importante i mercati in questo momento sono epilettici e così è vediamo gli azionari il dax questa è la velocità di discesa guardate con che velocità da sopra la media se eravamo vicini alla parte alta del canale in tre giorni è andato a testare la parte bassa gli indici azionari sono anche il dax è ancora all'altezza del minimo precedente del 9 maggio non lo ha rotto ma il momentum è altissimo domani sarà una giornata importante per capire se avremo lo scenario armageddon o lo scenario rimbalzo che era quello di cui vi parlavo nel video della fine settimana scorsa lo scenario armageddon qual è vado al nasdaq perché ne avevamo parlato qui tracciando gli obiettivi lo scenario armageddon è la rottura per l'indice nasdaq di 11 5 un'accelerazione verso il basso primo target 10 e 9 dopodiché è strada libera fino a 9 mila che non è detto che ci vada in due giorni però voglio dire rottura di questi minimi precedenti e l'aumento della velocità e del momentum guardate il dmi negativo come ha rotto tutti i massimi precedenti delle ultime settimane questi sono segnali che o rientrano rapidamente e quindi danno vita a un pullback a un berrelli cioè non è che parte del bull market da qua non abbiamo nessun segnale no qui la configurazione generale rimane comunque ribassista però sono eccessi che come vedete in tempi normali tutte le volte che si tocca la banda inferiore come minimo c'è un movimento laterale di che tende al ricongiungimento con la media sempre nell'ambito di oscillazioni più o meno ampie no quindi ecco quindi siamo in una fase di eccesso che o culmina in una accelerazione in una capitolazione dei long in questo movimento che leggevo poco fa i rialzisti hanno continuato a comprare i compratori sui dip lo vediamo dal grafico sono stati presenti sono ancora presenti quindi pericolosissima una rottura di questi livelli potrebbe inescare famoso movimento di capitolazione di accelerazione finale che molto spesso si vede nei movimenti quando dico accelerazione finale non vuol dire che da qui parte il bull market finale di questa fase che molto probabilmente non finisce qui se le tendenze che sono in atto continuano no però comunque se non altro si dà vita a un movimento di recupero un po più ampio perché questo rimbalzo come ragionavamo nel video di fine settimana è anomalo vedete che è più corto rispetto a quello precedente quindi da qui o parte un'accelerazione o questo è una configurazione che darà vita a un ulteriore movimento laterale di consolidamento ecco riepilogo quello che è stato detto nel fine settimana domani giornata importante alle otto e mezza ci sarà otto e mezza sera le ore nostra ci sarà la conferenza stampa di jerome powell e mi aspetto se i mercati non hanno già scontato tutto mi aspetto ulteriore volatilità chiaramente tutto questo è fatto per far rientrare l'inflazione e per far rientrare l'inflazione un altri segnali che possiamo vedere il monitoraggio delle materie prime abbiamo visto come il rame sta già obbedendo a questi impulsi ha rotto trend line rialzo ha rotto media 200 guardate con che velocità ha ripreso a scendere il rame si sta facendo tra virgolette convincere da questo rialzo dei tassi che ci sarà un calo di domanda e quindi reagisce di conseguenza il petrolio ecco fra tutti e il petrolio che ancora è lì su anche se oggi una candela interessante finisce con meno 1 e 90 ma non è tanto il meno 1 e 90 è la figura di reversal cioè oggi stamattina sembrava stesse partendo per andare a rompere il massimo dell'otto marzo e invece ha finito per chiudere con un bearish engulfing e un chi reversal potrebbe essere questo qua quindi da seguire certo un se il petrolio si accodasse potrebbe sollevare un po quelle che sono queste ansie di ulteriore presenza per lungo tempo di questi tassi di inflazione elevati che chiaramente sono molto negativi per le economie i gas sull'ottovolante il gas europeo oggi c'è stato un'avaria al guasto mancava un pezzo non ricordo bene quale fosse la causa comunque riduzione del 40 per cento del flusso verso la germania subito i prezzi sono schizzati verso l'alto però credo che questo sia destinato a rientrare questo il il future sul gas europeo oggi più 16 siamo a 97 quindi dove c'è la linea gialla però questo è da verificare domani invece interessante il tonfo del gas americano meno 16 per cento ecco dal punto di vista tecnico questi sono gli ecce vi ricorda ecco guardate i movimenti verticali gli eccessi qui con noi poi chiamano delle correzioni nel caso della volatilità che c'è qui chiaramente sono correzioni molto ampie non sempre sono così però ecco le bande di bollinger sono interessanti anche perché danno l'idea oggi siamo andati dalla parte opposta in un giorno solo interessantissimo questo movimento di oggi vi ricorderete che nei video delle settimane scorse vi dicevo che tutto questo movimento sembrava tanto un movimento di top per tanti motivi tecnici anche se poi comunque l'occhio no viene ingannato dal movimento al rialzo ma quale momento rialzo io però attenzione no cosa vi dicevo attenzione perché potrebbero c'è qui il il trend mostra segni di stanchezza di deterioramento che abbiamo visto da tanti indicatori da questi potenti berish engulfing da queste shooting quest'altro no questa 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 evening star con questa estensione c'erano diversi segnali anche dal candlestick che davano stanchezza l'aumento della volatilità e poi arriva il giorno meno 16 quindi attenzione perché poi unirsi tardi a questi movimenti espone a questa volatilità e a questi rischi quindi il gas è venuto il gas americano oggi è venuto giù vediamo se il resto delle commodities l'argento siamo a 21 anche l'argento in questi giorni sta accelerando verso il basso e quindi questo è un po il quadro del nasdaq abbiamo parlato lo rivediamo solo un attimo per dire che oggi finisce più 0 2 quindi conferma che per il momento rimane inchiodato qui su questa fascia di supporto che avevamo tracciato dove c'erano gli obiettivi del movimento precedente quindi tra 11 3 11 5 non andiamo al tic qua perché con la volatilità che c'è è un esercizio futile e quindi finché questa fascia regge le probabilità di un pullback rimangono ancora valide il bitcoin vediamo i nostri indicatori secondari no dell'aspetto del bitcoin anche questo fuori dalla dalle tre deviazioni standard c'è andato ieri e oggi figura quasi di arami diciamo sta peggiorando proprio in questi minuti poco fa era un doji perfetto figura di arami una figura di frenata quindi bitcoin ci dice probabilità di frenata di questo movimento frenata non vuol dire inversione anche qui ha fatto la stessa cosa poi se ne è andato di lato per tre settimane quindi frenata non vuol dire che parte il bull market apple più 0 67 132 anche per per apple figura di arami o meglio questo questo ieri un martello invertito e sì un arami improprio comunque è una figura di frenata dal punto di vista candlestick domani giornata interessante continuate a seguire chiaramente faremo registreremo il video sicuramente dopo la conferenza stampa di power chiudo con una richiesta un amico segnalava oracle perché buoni dati della trimestrale più 10 per cento è un più 10 per cento che eccolo qua sì è un più 10 per cento si è diciamo allontanato dalla zona qua di pericolo dalla zona armageddon chiamiamolo così cioè di possibile accelerazione verso il basso tuttavia la configurazione generale neanche a dirlo chiaramente non varia un giorno non fa trend quindi volumi molto forti quindi vendite molto ben presenti candela nera e tutto da valutare il comportamento di oracle nei prossimi giorni per il momento non sembra diciamo da un solo giorno non possiamo dire se si è iniziato un movimento di reversal oggi tutto rosso appunto tranne che abbiamo visto il gas europeo e marginalmente il nasdaq però tutti gli indici sono in variazione marginale unica eccezione il china 50 più 1 e 8 ne abbiamo parlato diverse diverse volte nel corso delle ultime due settimane ci sono giorni di segnali tecnici di forza ormai da un paio di settimane anche quello di oggi un segnale interessante perché la cina si è scorrelata la cina il suo bear market come dicevo lo ha già sviluppato sta vivendo le sue dinamiche e in discesa praticamente da febbraio 2021 è andata un po un ciclo che va per fatti suoi ormai questa è un'economia che ha raggiunto dimensioni tali per cui può permettersi anche di avere un ciclo indipendente per cui secondo me da seguire perché questo è una fase di possibile possibile accumulazione e i segnali di forza che stanno in questo periodo potrebbe essere il segno che gli investitori stanno rientrando sul mercato dal quale erano pesantemente usciti l'anno scorso continuiamo a seguirla qui abbiamo un target di breve per questo cfd che ha agganciato al future sul china 50 le 50 azioni principali classe a un target a 14 3 siamo a 13 9 non siamo lontanissimi obiettivo tecnico che avevamo visto l'altra volta come calcolare io direi per oggi va bene così siamo comunque arrivati a 16 minuti quasi 17 di video vi ringrazio come sempre del supporto che data entrambi i canali lasciate i vostri like così il sistema farà vedere forse questi video anche ad altri amici condividetelo comunque con i vostri amici se lo trovate interessante grazie a tutti per l'attenzione buona serata appuntamento a domani